Dopo la proposta di consiglieri regionali corissanesi di inserire di diritto nel Consiglio d'Amministrazione della Multi Utility Corigliano Rossano e la Mezzia Terme, arriva la risposta di Ferdinando Laghi. Il capogruppo di De Magistris Presidente ha presentato in commissione infatti un emendamento che comprende altri territori superiori a 15.000 abitanti che completerebbero il Consiglio d'Amministrazione dell'Autorità Unica Acqua e Rifiuti coinvolgendo aree nevralgiche della Calabria. Il problema quindi che per questa autorità si è individuato giustamente un Consiglio di Amministrazione che prevedesse i sindaci delle quattro province calabresi più quello della città metropolitana di Reggio a cui una recentissima proposta di legge ha aggiunto Corigliano Rossano e la Mezzia Terme. A mio parere il quadro è incompleto, bisogna dare la sicurezza della presenza in questo Consiglio di Amministrazione a tutte le realtà calabresi in maniera omogenea. Per questo noi abbiamo presentato un emendamento che prevedesse nel Consiglio di Amministrazione obbligatoriamente, oltre a quelli che ho testedetto, i sindaci dei comuni di Cassano Ioneo, Castrovillari, Paola, Gioia Tauro e Siderno, in modo che ci sia una rappresentanza omogenea di tutti i territori calabresi. e quindi gli altri 28 posti poi dovrebbero e debbono essere invece identificati con votazione dei sindaci in modo che si rafforzi e si completi tutto il Consiglio di Amministrazione.